Una marcia in difesa del diritto alla vita, a difesa del diritto della salute. Una marcia che denuncia reati penali in materia ambientale di gestione di impianti industriali come quelli della fabbrica Acciaierie d'Italia. Nel decimo anniversario del sequestro degli impianti dell'area caldo dell'ex ILVA una marcia sotto la sigla Taranto Libera si snoda da Corso Italia e raggiunge gli uffici della Procura in Viale Magna Grecia. Dopo dieci anni abbiamo ancora gli impianti sotto sequestro. La Procura ha detto no al dissequestro degli impianti chiesto dai commissari di governo. Ancora oggi abbiamo rilevato i dati dell'ASL aggiornati a maggio del 2022 che rilevano di ossina, oltre i limiti di legge, nelle cozze ma anche nelle uova. Il processo ambiente svenduto ha condannato gli imputati per avvelenamento delle sostanze alimentari. Ancora oggi abbiamo avvelenamento delle sostanze alimentari. Le istituzioni devono assolutamente muoversi perché altrimenti compiono il reato di omissioni di atti di ufficio. La provincia ci deve dire chi è la fonte inquinante e gli altri livelli istituzionali per le loro responsabilità devono assolutamente tutelare la salute dei cittadini. Dopo dieci anni di coni cittadini che rivendicano i diritti alla vita e alla salute si evidenzia che gli impianti della fabbrica inquinano ancora nonostante la Corte Europea dei diritti dell'uomo abbia condannato per la seconda volta l'Italia.